... ... ... ... ... Beh? Perché non sei morto? È il tipico hitcode del cazzo questo, andato per cambiare, vero? No, è che io sono pro... Ah, tu sei pro... Ma io... ti ho sparato in testa... In testa, non in fronte, dietro... Nezzo! 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 nezzo 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 ne Nezzo, 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 nezzo. Nezzo